Amici ha vinto da Mattia! Il ballerino pugliese Mattia Zenzola vince la 22esima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. A 19 anni, incredulo ed emozionato, porta a casa un premio del valore di 150.000 euro in gettoni d'oro e un sogno come un biglietto per il futuro. Una vittoria che sta di riscatto per lui che lo scorso anno si era dovuto ritirare a causa di un infortunio. Talento del latino americano è stato capace di cimentarsi in tutti i generi, lasciando senza fiato pubblico e giudici. Una finale a quattro con Isabel, Vax e Angelina, la seconda classificata, vincitrice della categoria cantanti, che si porta a casa anche il premio della critica e quello assegnato dalle radio. L'allievo del team Arisa Todaro ha battuto dunque nello scontro finale la cantante Angelina del team Cuccarini-Lo, vincendo la Coppa a tanto ambita e attesa da due anni. Grazie